Piero Gobetti, elogio della migliottina. Il fascismo vuol guarire gli italiani dalla lotta politica. Giungere a un punto in cui, fatto l'appello nominale, tutti i cittadini abbiano dichiarato di credere nella patria. Come se col professare delle convenzioni si esaurisse davvero la pratica. L'attualismo, il garibaldinismo, il fascismo sono espedienti attraverso cui l'inguaribile fiducia ottimistica dell'infanzia ama contemplare un mondo semplificato secondo le proprie misure. La nostra polemica contro gli italiani non muove da nessuna adesione a supposte maturità straniere né da fiducia in atteggiamenti protestanti o liberisti. Il nostro antifascismo, prima che mitologia, è un istinto. Il nostro vorrebbe essere un pessimismo sul sedio, un pessimismo dal Vecchio Testamento, non il pessimismo letterario dei cristiani, che si potrebbe definire la delusione di un ottimista. La lotta tra stegnità e il danunzianesimo è antica, senza rimedio. C'è un valore incrollabile al mondo, l'intransigenza. E noi ne saremo, per un certo senso, in questo momento, i disperati sacerdoti. Temiamo che pochi siano così, coraggiosamente radicali da sospettare che si possa incontrare il problema politico così. Noi vediamo diffondersi con preoccupazione una paura dell'imprevisto che seguiteremo a indicare come provinciale per non ricorrere a più allarmanti definizioni, ma certi difetti sostanziali. Anche in un popolo nipote di Macchiaverdi non sapremo capacitarci, se venisse loro dei conti. Il fascismo in Italia è una catastrofe, un'indicazione di infanzia decisiva, perché segna il rionfo della facilità, della fiducia, dell'ottimismo, dell'entusiasmo. Si può ragionare del ministero Mussolini come di un fatto d'ordinaria amministrazione. Ma il fascismo è stato qualcosa di più. È stata l'autobiografia della nazione. Una nazione che crede nella collaborazione delle classi, che rinuncia per pigrizia alla lotta politica, è una nazione che vale poco e dovrebbe essere guardata, guidata con qualche pre-caluzione. Professiamo di aver sperato che la lotta tra fascisti e socialcomunisti dovesse continuare senza poca. E pensiamo, nel settembre del 1920, pubblicando nel febbraio del 1922 la rivoluzione liberale, con fiducia verso la lotta politica, che attraverso tante corruzioni, corrotta essa stessa, tuttavia sorgeva. In Italia c'era della gente che si faceva ammazzare per un'idea, per l'interesse, per una marchia di retorica. E oggi allora sorgevano i segni della stanchezza. È difficile capire che la vita è tragica. In Italia non ci sono proletari e borghesi, ci sono soltanto classi medie, lo saperemo. E se non l'avessimo saputo ce l'avrebbe insegnato Giolitti. Insomma, Mussolini non è nulla di nuovo, ma con Mussolini ci si offre la prova sperimentale dell'unanimità. Ci si attesta all'inesistenza di ignoranze eroiche. Certe ore di ebrezza valgono per confessioni. E la palingenesi fascista ci ha attestato l'impudenza della nostra impotenza. A un popolo italianziano non si può chiedere spirito di sacrificio. Noi pensiamo anche a ciò che non si vede. Ma se ci attenesse soltanto a quel che si vede non direbbe confessare che la guerra è stata in vano. Privi di interessi reali, distinti, necessari. Gli italiani chiedono una disciplina, uno Stato forte. Ma è difficile pensare Cesare senza Pompeo. Roma forte. Senza le lotte tra Patrizia e Plebei. Senza la guerra civile. Si può credere all'utilità dei tutori giustificare Giovitti. Ma i padroni servono soltanto a farci tornare indietro. Né Mussolini né Vittorio Emanuele hanno virtù di padroni. Ma gli italiani hanno bene animo da schiavi. È doloroso per chi lavora da anni dover pensare con nostalgia alle congiure. Eppure siamo sinceri in fondo. Io ho atteso ansiosamente che venissero le persecuzioni personali. Perché dalle sofferenze rinascesse uno spirito. Perché nel sacrificio dei suoi sacerdoti questo popolo riconoscesse se stesso. c'è stato in noi nel nostro forse fermo qualcosa di lunghi sciottesti. Però ci si sentiva anche una disperata religiosità. Non possiamo incuderci di aver salvato la lotta politica. Ne abbiamo questo dito il signore. E bisogna sperare con quanto scetticismo che i tiranni siano tiranti. Che la reazione sia reazione. Che ci sia chi avrà il coraggio di levare la si può valorizzare il regime. Si può cercare di ottenere qualche frutto. Chiediamo le fustate perché qualcuno si svegli.